Un mese dopo il sit-in di protesta davanti a Palazzo di Città, sono tornati a incrociare le braccia i lavoratori del servizio di rifezione scolastica della città di Barletta. Luogo della protesta questa volta è stata la sede del centro di cottura in via Donizetti, che ha visto il presidio dei lavoratori in sciopero per contestare contro il taglio delle ore lavorative, il taglio del personale, come è accaduto per esempio per gli autisti scesi di una unità, e per altre situazioni come l'utilizzo di unità lavorative esterne all'azienda, che i dipendenti della società La Cascina Solidarietà e Lavoro hanno denunciato non essere consone ad un corretto svolgimento delle attività. A nulla, spiega il segretario della Filcams CGL Bat, Domenico Spera, sono valsi gli incontri intercorsi nell'ultimo mese con i rappresentanti dell'azienda. Se siamo qua a scioperare evidentemente non si è risolto praticamente nulla. Noi abbiamo fatto un incontro in prefettura alla presenza sia del prefetto che della società e della committenza, purtroppo le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori non sono state assecondate. Queste lavoratrici che operano su questo sito da più di 15 anni sono state decurtate di una parte dell'orario di lavoro senza che vi siano, a nostro avviso, le necessità che possano portare a tale taglio. Le problematiche messe nel corso della protesta sono ben espresse dalla testimonianza di uno dei dipendenti presenti. Mi è arrivata una lettera di contestazione qualche giorno fa che c'è stato un errore da parte mia che un giorno praticamente di servire la pasta al pomodoro dove va inserito il parmigiano grattugiato, purtroppo preso dalle pressioni e quant'altro, c'è stata una dimenticanza su solamente 100 pasti e quale poi ho subito provveduto, ho fermato il servizio e abbiamo provveduto su questi 100 pasti di mettere il parmigiano grattugiato, chiuso nei piatti e quindi portato insieme. hanno avuto il barbaro coraggio di mandarmi una lettra di contestazione da parte del capo di visione dicendo che abbiamo saltato, cioè non ho messo il parmigiano, bensì a 700 pasti, quindi dichiarando anche il falso. In attesa di risposte anche dall'amministrazione comunale di Barletta, il sit-in davanti al centro di cottura potrebbe non essere l'ultima azione perpetrata dai lavoratori che, annuncia spera, proseguiranno al fine di ottenere le risposte richieste. Cercheremo, dopo un incontro fra i lavoratori, cercando nuovamente di evidenziare le incongruenze che stanno venendo fuori da questo rapporto di lavoro che purtroppo dovrebbe essere garantito dalla trasparenza e dalla legalità e che purtroppo non lo è affatto.